Ragazzi adesso giochiamo un gioco che si chiama Mika and the Witchs... Eeeeh! Aspetta eh, ve lo dico in italiano. Si chiama Michela e la montagna della strega, ok? Oh. Mi dava un pesto, guarda, mi dava una pedatona. Guarda, guarda... E addio! Vabbè. Vabbè ragazzi, è finita. È così che inizia e finisce... Guarda, è proprio preciso. Giorno 1. Wow! Che fattucchiere a burbera? Mi ha fatto un sacco di male. No, zitti, dovevi spiaccicare, dovevi esplodere. Ragazzi è scassata la scopa, ragazzi. Nooo, ci siamo in un paese. Oh, dobbiamo andare al villaggetto qui vicino e dobbiamo farci aggiustare la scopa. Cos'è questo? Ma è... Ma... Monaco? Monaco Francescano? Ma sei tu? Ma che fai qui? Non paguro? Ciccio gamer? Collezionabili? Ah! Ci sono anche collezioni... Ma che giocone è, ragazzi? Ma c'è una mappa? C'è qualcosa che io posso... No, non c'è niente. Ci vado... Premiere? Cosa? Eh? No, ragazzi, non si capisce cazzo. Fermi. Fè. Eh no, e non funziona. Ma la scopa... Oh. Scusate, la scopa non va. La scopa non scopa. Eh? Oh mio tì! Eeeh... Come si guida? Non so guidare, zì. Come salgo? No, ragazzi... Eeeh... Sto morendo. Ragazzi, che cos'è sta cosa? Il villaggio l'ho creato io. Non funziona! Non va! Non sale! Perché ho una scopa madre in China che non scopa? Perché? Perché? Vola! Vola via nel cielo! No, niente. È una zona troppo ampia, zì. Non vola la scopa! Non vola! Eccolo qua, è lui! È lui, palese. Vieni qua, zì. È lui! Ho visto un pesce pagliaccio. Eccomi qua, sono io. Oh! Eccolo qua, è lui. Eccolo qua, vedi? Boccia dei pesci. Come catturare un pesciolino? Allora, senti. Trova una boccia, riempia d'acqua e poi... Eeeh... Ma ragazzi, io non penso sia una buona idea, eh? Devo buttarmi, quindi... E... E... Ma... Come funziona, zì? Devo fare questo? È giusto? No, 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 no! Prendi la boccia! Ragazzi, io non sto capendo. Io non... Non spiegano bene in questo gioco. E dove sono i pesci? Ragazzi, eeeh... Mi si è buggato il gioco? È mai possibile? È mai possibile che tutto quello che io tocco si bugga? Allora, quello il pesce appariva... Guardalo! Gua, è scriptato, zì. Guarda. Sta qua, vedi. Eh! Preso! Ma guarda, qui c'è un altro. Entra! Anche tu! No, niente, non c'entra. Vabbè, eeeh... Diciamo, è un po' fatta male sta cosa, ok? Cioè, nel senso... Perché da questa parte mi spuntano i pesci e di qua, no? Vabbè, lasciamo stare. Pesca tre pesci, capito? Perché ci sono le bocce. Mi paghi? Sì, è certo, ragazzi, le cose importanti. Eeeh... Eccolo! Guarda! Infame... Nooo, ho bagnato il pacco! Nooo! Vabbè, lascialo! Addio! Ragazzi, ho perso... Eeeh... Per colpa del pesce, io ho rovinato la consegna. Ah! Ho sei monete! Oh, 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 oh! Subito! Cambio di outfit, subito! Voglio! Ehi! Sono ufficio... Mamma mia, ragazzi, guardate qua! Ehi! Sono una postina. Andiamo. Just postina. Oh, ma è troppo... È troppo cilloso sto gioco. Ah beh, rubiamo un po' di... Eeeh... Vabbè, zi, Animal Crossing. Spostati. Hai ottenuto la nuova scopa. Ok. Il volo zephyro. Ah, ora puoi sfruttare le correnti. Eh, come si fa? Ok. Bello. E possiamo portare anche due pacchi alla volta. Vai, vai, o mi piace. Allora, uno... Eeeh... Un altro. Oh, ma non posso... Ragazzi, è fake. Non vola neanche questa. Mi serve... Mi serve la corrente. Eccola qua, vedi? No, 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 no. Mi schianto. Vola! Vo... Ehi. Ehi, che cosa vorrei... Sì, però... Eeeh... Oddio! Eh no, non ci arriva lo stesso. Io non lo capisco, sto gioco. No. Ragazzi, aiuto. Allora, senti. No, no, si bagna, si bagna il pacco. Albi, Albi, sveglia, eh. Allora. Sali. Ce la fai a salire? Sali. Sali, 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 sali. Eh. Io dovrei riuscire a prendere... Una vacca. No, 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 no. Allora, lasciamo un attimo sto coso qua. Magari siamo più leggeri, capito? Aspetta. Facciamo così. Facciamo... Hop! Oh, ho preso. Ce l'ho. Ce l'ho. È un gioco fatto un po' col culo, ragazzi. Però è un gioco... Gatto? Gatto? Gatto o cane? Ah, è un cane. Oh, a po'... Coccola è il cane. Oh. Ragazzi, io direi per 40 mil... Io basta. Sono a posto così, eh. Basta. Posso dare fastidio alla gente? Eccomi qua. No, basta, dai. Oh, comunque è bellissimo gioco, eh. Lo riportiamo, sicuro. Mi posso fare il bagno qui? Ok. No, non basta perché non mi è piaciuto. Basta perché... Basta. Come tutti i giochi indie, ha tante cose che non... No, non vanno. Un po' troppo legnose, capito? Un po' troppo legnose. La ceọn... Ok.